Ciao Paolo, che piacere incontrarti, vieni, partiamo subito perché abbiamo un appuntamento importante, quello con tutti i tifosi del Geno che ti aspettano. Paolo, tu sei nato e cresciuto nel settore giovanile del Geno, ora torni qui, che cosa significa per te vestire i colori rosso-blu? Per me vestire i colori rosso-blu significa tanto perché il Geno mi ha preso quando ero al Pavia, quando avevo 16 anni, è stato molto difficile all'inizio, poi mi sono abituato e adesso sono nato fino in prima squadra, quindi penso sia una grande soddisfazione. La maglia del Genoa poi è una maglia speciale perché ha scritto la storia del calcio in Italia, qui siamo immersi nella storia. Sì, Genoa è una maglia storica, una maglia importante, con un tifo importantissimo e ogni volta che indosso questa maglia comunque il peso si sente. Sì amiche tifosi del Genoa, benvenuti al museo, stiamo per sapere tutto e di più su Paolo Ghiglione, avete fatto un sacco di domande. Paolo sei pronto? Sono carico. Perché ci chiedono se hai la fidanzata? Sì sì, quindi sì. Ah ce l'hai? Sì sì. Ma davvero va bene, è amata tanto, sei fidanzata ai 22 anni. Va una netta. C'è Neomarazzi poi è uno stadio particolare. Visto dal campo fa un certo effetto e anche la partita con la Fiorentina sentiamo un tifo importante. A me mangiare mi piace tantissimo, quindi a me la carne in generale mi piace molto. carne? Sì, carne. Piatto preferito ligure, avevi gli gnocchi al pesto. Chi è il più figo si può dire secondo te? Posso dirlo tu, non io? Eh no, c'hai ragione, però magari dall'interno regalerò a Renzo, a mio figlio. Mi fai un... Facciamo un autografo. Sì, un autografo. Ciao a tutti, un abbraccio. Alla prossima, giusto? Ne faremo, no? Ciao ragazzi, alla prossima!